Un nutrito programma di iniziative tesi a valorizzare la figura dell'illustre scienziato e matematico siracusano Archimede. È partito sabato e durerà un triennio circa l'omaggio che la città di Siracusa rende a suo celebre concittadino per valorizzarne e approfondirne le opere. Sabato mattina appunto il convegno d'apertura delle celebrazioni Archimede in occasione dei 2300 anni dalla nascita del celebre scienziato siracusano. A fare gli onori di casa alla provincia regionale di Siracusa il presidente onorevole Nicola Bono nonché presidente del comitato per le celebrazioni e l'intervento dell'assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana Maria Rita Sgarlata. Abbiamo una programmazione almeno triennale perché vogliamo valorizzare Archimede non solo come un fatto culturale e doveroso perché celebriamo la vita e l'opera del siracusano più importante di tutti i tempi e di uno degli uomini più importanti della storia dell'uomo ma anche perché attraverso la figura di Archimede vogliamo valorizzare il territorio sotto il profilo turistico-culturale e per avere una regaduta che ci possa dare quelle risposte, quel rilancio che solo una figura come Archimede conosciuta a livello planetario può realizzare. A valorizzare il genio e le opere di Archimede una serie di relazioni durante il convegno. La prima quella del professor Lucio Russo dell'Università Tor Bergata di Roma che ha parlato di cosa possiamo imparare oggi leggendo Archimede. A seguire quella della professoressa Rosalia Marino dell'Università di Palermo su proiezione mediterranea della Sicilia al tempo di Archimede. Infine gli interventi dell'architetto Francesca Pedalino, direttore del Centro Studi e Ricerche e Officine Archimede sulla Casa di Archimede, architetture e invenzioni. E infine la dottoressa Cettina Voza, presidente del Genio Archimedeo su un monumento per Archimede. Io sono entrata in queste celebrazioni Archimede quando erano già in corso, in itinere. Condivido buona parte delle scelte che sono state fatte. E' chiaro che bisognerà orientare successivamente, se vogliamo anche rendere permanente il ricordo, la memoria di Archimede a Siracusa, anche procedere verso altri tipi di indicazioni, di decisioni che riguardano per esempio l'istituzione di un master di secondo livello a Siracusa collegata naturalmente alle scienze matematiche. Una realizzazione anche di un centro di eccellenza, di un polo che in qualche modo possa coinugare scienze umanistiche e scienze matematiche, perché come tutti gli scienziati Archimede era un personaggio piuttosto borderline, quindi bisognerebbe cogliere anche questo aspetto della sua figura e soprattutto proiettarci anche verso la possibilità di dare anche un lavoro a nuove generazioni attraverso anche scelte che siano di presenza nella città.